Diamo l'idea che è come se ripartissimo dal 60% che aveva preso Antonio De Caro nel 2019, come se quello fosse un fatto acquisito. Se pensiamo che i baresi ci voteranno a prescindere per quel che abbiamo fatto e se pensiamo di avere come coalizione il 60% in tasca, io penso che siamo destinati a una sonora sveglia che non mi auguro. Sullo scacchiere delle comunali baresi di giugno rispunta l'ipotesi primarie da Con, su dal centro le mettono sul tavolo, ma senza convincere i maggiorenti della coalizione. Il monito dell'ala sinistra è arrivato nel corso del congresso di sinistra italiana del weekend, che ha segnato l'avvicendamento tra Nico Bavaro, approdato in segreteria nazionale, e Minio Di Lernia, che prende le redini del partito, fermo, sul nome di Michele Laforgia, Alberto Tedesco dei socialisti, Citarino Formica. Rinnovare senza rinnegare. È evidente che dopo un ciclo di vent'anni è fisiologico per la democrazia. E la lunga marcia di avvicinamento agli appuntamenti del prossimo, fine settimana, l'Assemblea dei Democratici, che potrebbe vedere chiudersi il cerchio sul nome del capo di gabinetto uscente del comune Vito Laccese, dopo l'endorsement di Marco Lacarra e le aperture di Paola Romano, ma non di Pietro Petruzzelli, e poi il ritorno al tavolo del centro-sinistra. Per far cominciare la primavera, quella del comune di Bari innanzitutto, dovemmo sconfiggere, prima di sconfiggere la destra, dovemmo sconfiggere le nomenclature della sinistra. Per vincere due volte alla regione abbiamo dovuto per due volte fare il frontale con la seconda volta, lo ricordo perché anche qui la memoria va rinfrescata, con D'Alema e Bersani la seconda volta.